Cinque punti simbolici come le stelle che contraddistinguono la forza politica proponente e l'agenda che il Movimento 5 Stelle barese ha presentato al sindaco di Bari Antonio De Caro affinché alcune azioni siano portate a termine entro la fine dell'attuale consigliatura e possano rappresentare passi propedeutici all'apertura di un dialogo in vista delle amministrative del 2024. La logica, spiegano dal coordinamento provinciale del Movimento, è quella di lavorare per il presente della città con l'attuale amministrazione per poi aprire nuovi scenari per il futuro. È arrivato il momento di portare a casa quelli che sono degli obiettivi. Lo vogliono fare in primis dialogando con le altre forze politiche, ovviamente nel perimetro del centro-sinistra. Possiamo dire ai cittadini di Bari che determinate cose potranno essere realizzate. Un'agenda che si concentra su trasparenza e legalità contro ogni forma di voto di scambio, su numerosi interventi di urbanistica e lavori pubblici, sull'incremento della raccolta differenziata in ogni quartiere della città, sull'ambiente e i diritti degli animali e non da ultimo sull'avvio di un percorso di decentramento amministrativo. Un programma che il sindaco De Caro ha ricevuto e accettato integralmente, che pone le basi per uno scambio di intenti che vedrà la prossima tappa nel tavolo politico del 7 settembre. Con l'accettazione di questo documento andiamo avanti per valutare un percorso, quindi partecipiamo al tavolo del 7. Questo non significa che stiamo stringendo un patto di sangue, andremo a verificare quelle che sono le condizioni. Noi abbiamo al primo posto i cittadini e la città di Bari, non gli accordi che vadano a Caisonino da un programma. Questo che diciamo non lega bene con le primarie, perché le primarie, sebbene siano uno strumento di un esercizio di democrazia che noi rispettiamo, ma non ci consentirebbero di identificare, di riassumere al meglio quello che vogliamo per i cittadini di Bari. Per questo siamo irremovibili.